ancora buon pomeriggio da Firenze Smart Mauro Ciutini un incidente c'è una coda di un chilometro sulla 11 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione di Pisa rallentamenti per un veicolo fermo sulla variante di Valico tra Aglio chilometro 255 Firenzuola in direzione di Bologna ancora in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino sempre sulla A1 mezzi in lento movimento ricordo che sulla 11 Firenze Pisa Nord per consentire lavori di manutenzione dalle 22 di mercoledì 10 alle 6 di giovedì 11 aprile sarà chiusa la stazione di Prato Est in uscita per chi proviene da Firenze in alternativa si consiglia di uscire la stazione di Prato Ovest è tutto grazie a Regione Toscana Città Metropolitana e Comune di Firenze